passaggino tosto le montesa le vedo leggermente in difficoltà le montesa le vedo leggermente in difficoltà andiamo il claudio leggermente in difficoltà con suo cancellone o pop 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 la beta a zero devi salire per forza di qui claudio claudio spostati sulla sul di là questo passaggino qui è bello tosto è devo dire che la bettina se l'hai mangiato come arriva la montesa arriva la montesona via 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 finalmente ce l'ha fatta supervito super vito pop 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 dai vito dai 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 vai 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 massimino ai 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 anche massimino gamba lunga e difficoltà il massimino è in difficoltà strano ma vero strano ma vero è molto in difficoltà devo dire che il sentiero è abbastanza impervio tutto con sassi che si muovono che cosa però devo dire che io con la fatica qua non l'ho proprio fatta sono venuto su molto molto bene la bettina lavora la bettina vola la bettina vola andiamo seconda metti seconda e la prima sta dio caro questo non me lo dovevi fare massimino o quasi a zero l'ho fatta è porca vacca tira sul culo dietro niente da fare questo qua è un bel sentierino bello tecnico se sbagli non vieni su più neanche morto una seconda una seconda di jacopo jacopo arriva anche jacopo vediamo se riesce a superarlo niente da fare gli si è inchiodato culo e ripartire da lì ecco è voltato la è voltato la e qui devo fare un video di dieci minuti porca vacca andiamo porca vacca ma non è possibile che sta facendo tutta quella fatica che guarda quello la giù in fondo cosa sta combinando madonna madonna e non va non va non va non va non va fatica di bestia la mia la mia bevo qua è volata è volata dai massimino o pop da chi sei su dai 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 bravo vai 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 madonna quanto l'usare quanto l'usare diciamo dalla mia postazione a jacopo ci saranno 30 metri però sono 30 metri tutto sconnesso e per cui se non hai una guida un po come si deve eccolo ecco 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 molto bene quinta valvola quinta valvola a zero no mi si è spento un mito no ma tu ci credi che ho messo giù due tre piedini me la sono mangiata jacopo la bettina puttana lavorava la bettina ma guarda ma dio caro che incastrata lì mi sono stato sotto la moto per uscire cazzo dovuto andiamo c'è niente da fare i quattro tempi non va bene qua quattro tempi soffrono soffrono il vedi vedi non c'è niente stefano io l'ho tirata su di peso comunque da quel gradino l'ho visto lì è il punto dove l'ho fatta meglio seconda guidata l'ho caricata l'ho caricata bene ho proprio volata via non mi sono fermato proprio gli dato un colpo di gas non stare in mezzo dove c'è la pietraia comincia no no lì dove proprio saltarlo via dove l'ho perso aspetta che ce l'ha fatta ce l'ha fatta dai quinta valvola facci sognare eccolo 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 molto bene è rimasto posti il sergio serginio il serginio il serginio tutti li e hai visto come sono venuto su bene non mi hai visto me poco diga o ho messo giù due piedi o quasi a zero è e ma lì lo volato io l'ho volato via o e poi bobo bobo un piedino sotto sotto lì a metà ho messo e poi via vai serginio vai serginio op 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 molto bene abbiamo finito jacopino un saluto per la troupe